Federica Panicucci Federica Panicucci, compleanno a mattino 5 e la dedica di Simona Ventura Mattino 5, festeggiamenti per Federica Panicucci e gli aguri di Simona Ventura Federica Panicucci compie oggi 50 anni e la conduttrice di Mattino 5 ha ricevuto pochi minuti fa gli aguri da Simona Ventura L'ex conduttrice di Selfie e le cose Cambiano ha infatti caricato sul suo profilo Instagram una foto in cui è apparsa con un vestito bianco e nero proprio al fianco dell'amica all'interno dello studio di Cologno Monzese, e nella didascalia dell'immagine ha scritto queste parole Compagna di tante avventure nel tubo catodico. Buon compleanno amica mia. Happy birthday Fede per i tuoi 50. Nel frattempo Federica ha ricevuto anche la sua prima sorpresa a lavoro, infatti, come ha mostrato attraverso le sue Instagram Stories, il pubblico di Mattino 5 insieme allo scalda pubblico ha cantato per lei tanti auguri Alcuni dei suoi fan che la seguono in diretta ogni mattina hanno voluto inoltre farle anche dei cartelloni per celebrare il lieto evento, come abbiamo voluto farvi notare attraverso uno screenshot proveniente appunto da uno dei video che la bionda conduttrice ha caricato sui suoi social, e che potete vedere tranquillamente in fondo a questo articolo Simona Ventura, le parole per Federica Panicucci e la foto a Mattino 5 Molti saranno i personaggi televisivi che seguiranno l'esempio di Simona Ventura, e che faranno quindi gli auguri a Federica Panicucci Inoltre, la conduttrice di Mattino 5 ha ironicamente annunciato la ricorrenza anche sulla sua pagina social, pubblicando una sua foto al mare in cui aveva soltanto 5 anni Federica ha poi scritto sotto lo scatto che 50 anni erano i nuovi 5 anni La Panicucci non può comunque certamente lamentarsi dell'età che avanza, nonostante abbia raggiunto tale traguardo anagrafico ha infatti mostrato anche durante questa estate un fisico statuario e perfetto, come d'altronde i telespettatori hanno potuto ammirare durante tutte le sue puntate in diretta Cosa farà la bella conduttrice questa sera per festeggiare il lieto evento? Sicuramente trascorrerà la serata insieme all'amore della sua vita Marco Baccini e i suoi figli, che sono per lei il regalo più grande Per saperlo con certezza comunque, basterà seguire Federica sui social, in cui pubblica quotidianamente ogni singolo movimento che fa nella sua vita privata Per saperlo con certezza